Commentiamo con Bruno Marini i risultati delle elezioni, soprattutto ci fermiamo in Emilia Romagna perché Lega Nord prende quasi il doppio dei voti di Forza Italia, vince ancora una volta l'astensionismo quindi qualcosa nella ricetta Renzi comunque non sta andando, stiamo andando sempre più verso una deriva di incazzatura stavolta proprio pericolosa, visto il dato dell'Emilia Romagna e della Lega Sì, la gente non ne può più, la gente stufa, la gente non crede più in nessuno pensa che in Emilia Romagna è andato, regione tradizionalmente dove, io non la definirei rossa queste sono definizioni vecchie, ma dove il radicamento della sinistra è forte, è proprio costruito sul territorio in Emilia Romagna è andato a votare poco più di un elettore su tre, è andato a votare il 37% quindi è un dato veramente su cui... Ricorda Trieste quando il centrodestra non è andato a votare piuttosto di votare il centrodestra? Sì, ma io direi che ormai la disaffezione colpisce tutti quanti i partiti a parte il fatto che non si può andare a votare ogni giorno, cioè qua si vota, qua bisogna stabilire dei turni elettorali e andare a votare ogni anno in maggio, giugno non si può andare a votare la gente stufa, ha votato per le europee in maggio, adesso ha votato per due regioni in novembre poi questa primavera per altre dieci regioni a statuto ordinario, primavera la gente stufa, bisogna stabilire dei turni, quindi un astensionismo incredibile che secondo me colpisce tutti quanti, tutti quanti ma in particolare guardando quei risultati elettorali dell'Emilia Romagna si dovrebbe dire che l'unica non essere stata colpita da questo folle astensionismo è stata la Lega Nord, la quale bisogna onestamente riconoscere ha avuto all'interno di un buon risultato, all'interno di un risultato elettorale buono tutto sommato del centrodestra, la Lega Nord spicca addirittura col 19% dei voti, mentre Forza Italia, mi duole dirlo, ma la realtà è questa, Forza Italia ha soltanto l'8%. Nell'equilibrio interno di una riorganizzazione, ricordiamo che a Trieste comunque tra due anni si va a votare anche per le comunali. Ormai siamo il 24 di novembre, tra un anno e mezzo, forse tra un anno e 4-5 mesi, non è più due anni. Ecco, su questo, sui rapporti di coalizione, non si guarda mai i precedenti ma si guarda sempre gli ultimi dati e questo sarà tra uno degli ultimi dati, come potrebbe cambiare sia qui ma non solo qui il rapporto tra Lega, Forza Italia, Nuovo Centrodestra nell'ipotesi che vi rimettete insieme? Perché oggi come oggi, se una volta Forza Italia era K, potrebbe esserci un ribaltamento della situazione e avere una Lega che guida la coalizione? Ma certo, guarda, per quanto riguarda il nuovo centrodestra dipende da loro, nel senso che sia in Emilia Romagna sia in Calabria hanno corso da soli assieme all'Udc, raggiungendo in Emilia Romagna un risultato spaventosamente basso, il 2,6%, in Calabria il risultato, ma si sa che nel sud l'Udc e il nuovo centrodestra sono più forti, in Calabria hanno avuto un risultato leggermente superiore, ma il risultato dell'Emilia Romagna è il 2,5%. Quindi dicevo, per quanto riguarda il nuovo centrodestra, loro devono decidere loro se vogliono far parte del centrodestra o se vogliono stare in mezzo a tenere il cerino così in mano o se vogliono fare l'ala destra del centrosinistra, perché non dimentichiamo che il nuovo centrodestra è con tre ministri e per di più di peso Alfano, Lupi e Lorenzin, organicamente al governo con Matteo Renzi. Per quanto riguarda le altre tre forze politiche, indubbiamente il problema che poni tu è corretto. I nostri rapporti con la Lega Nord sono buoni, buoni anche in sede locale e in sede regionale, direi che sono i migliori possibile. È chiaro che la Lega Nord con Salvini vuole lanciare un'oppa sul centrodestra. Io non ho nessun particolare motivo, Salvini mi è anche simpatico, apprezzo anche alcuni contenuti della campagna elettorale che fa, però devo constatare una cosa, che un centrodestra a guida Salvini non ha possibilità di vincere, perché è un centrodestra troppo spostato su posizioni xenofobe, su posizioni lepeniste e quindi una quota di elettori moderati lo vota. Io oggi ho il paradosso di questa Forza Italia che a livello nazionale è stretta tra Salvini da un lato e Renzi dall'altro, quindi tra due grandi comunicatori e la gente in strada. Tu sai che io ho un certo rapporto con la gente che se ne dica ce l'ho, alcuni mi dicono che voteranno Lega, altri mi dicono che se ci alliamo con la Lega non votano più. Quindi siamo, come voi Italia, in una situazione difficile. Io ritengo, ma questo è un discorso che magari approfondiremo quando abbiamo un attimo più tempo, che qui deve rifondarsi tutto il centrodestra. Qui deve rifondarsi il centrodestra e per ragionare in termini americani, come Renzi sta dando al Partito Democratico l'imprinting di un partito non più di sinistra, ma sullo stile del Partito Democratico americano, noi per ragionare in termini semplicisticamente americani dobbiamo fondare il Partito Conservatore italiano e il Partito Repubblicano d'Italia. Un'ultima domanda, perché a questo punto è l'ultima che manca. A questo punto Massimiliano Fedega, capogruppo della Lega Nord della Camera, segretario regionale, potrebbe pensare di ambire essere il candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni a Trieste. Il centrodestra digerirebbe una candidatura Fedega a Trieste? La candidatura di Fedega sarebbe senz'altro una buona candidatura e una candidatura legittima, ma lasciami dire che lo sarebbe anche, e qui lo dico il 50% sul scherzo, il 50% sul serio, anche la mia.